signori buongiorno e benvenuti ai consueti video estivi del modellismo con il master kai anche quest'anno andiamo avanti a parlare della griglia modulare e la prima cosa che voglio introdurre è che l'anno scorso abbiamo visto come fare le caselle che sono dei quadrati di due quadretti per due quadretti e avere tutte le caselle della stessa dimensione effettivamente è estremamente comodo ed è estremamente modulare il fatto però è che dopo un anno che le uso mi sono reso conto che alle volte sarebbe molto più pratico avere delle caselle di dimensioni diverse quindi cominciamo i video di modellismo di quest'anno andando a parlare proprio di quello l'anno scorso quando abbiamo visto proprio la base del creare la griglia tattica modulare abbiamo visto come il fatto che la griglia sia proprio modulare la parte importante quindi tutte le basi devono essere progettate per poter essere incastrate tra di loro sui dettagli di come fare a rendere incastrabili vi rimando direttamente ai video dell'anno scorso non stiamo a rispiegare tutto ve lo metto qua in alto però per un breve riepilogo il concetto è quello di mettere quattro spessori ai quattro angoli della base e poi inserire un pezzo al centro che serva a evitare che il pirulo che viene usato per incastrare le basette tra i loro scappi in questo modo tutte le basi hanno esattamente la stessa forma al loro interno e usando un pirulo di carta possono essere incastrate tra di loro sia per rendere più stabile sia per rendere possibile metterle e toglierle direttamente a blocchi se le basi non sono quadrate però lo schema della parte interna deve cambiare per mantenere la modularità ora la cosa migliore da fare è prendere una delle basi normali e riportare le misure sulla base non convenzionale che vogliamo fare per essere sicuri che l'interno rimanga uguale in questo caso come esempio io sto lavorando su una base di due quadretti per quattro quindi diciamo come se fossero due basi normali attaccate molto banalmente segnatevi proprio con una matita dove dovrebbero rimanere i pezzi di incastro all'interno adesso io ve li segno con una matita in modo che siano evidenti quello è dove devono rimanere gli spessori quando poi verrà applicato il tetto della base su cui verranno poi mezzo le decorazioni a questo punto possiamo procedere in maniera analoga a come procederemo con una basetta normale ritagliamo gli spessori interni solo che in questo caso i quattro spessori ai lati saranno nei normali quadrati larghi un terzo della base normale mentre i due spessori centrali saranno dei rettangoli lunghi il doppio applicando un po di colla vinilica mi raccomando qua non esagerate in realtà stiamo incollando carta su carta quindi ne basta molto poca mettete una goccia poi spalmatele un attimo sulla mano in modo che faccia più aderenza e si assorba più velocemente in realtà soprattutto se non se non state in un clima particolarmente umido in due o tre minuti la colla si sarà già asciugata e potrete andare avanti col lavoro ovviamente io qua vi sto facendo vedere una sola base per volta ma voi procedete a catena di montaggio quindi fate tutte 10 tutte 20 quelle che dovete fare le basi insieme mi raccomando anche in questo caso non dimenticatevi di inserire il blocco al centro per evitare che poi il pirulo di carta venga fondamentalmente mangiato dalla base che non sia più possibile recuperarlo una volta che lo schema interno della base è stato completato controllate sempre che le misure siano riportate correttamente e adesso non vi resta far altro che mettere la colla sulla parte superiore degli spessori in modo da poterci poi incollare il tetto sopra qui potete vedere che il procedimento sia per una base di quelle normali di due per due sia per una base di dimensioni diverse è sempre lo stesso mettete la colla sopra schiacciate bene e poi lasciate che si asciughino per essere sicuri che la carta non tenda a imbarcarsi facendo diventare le mattonelle delle mezze lune su quelle lunghe strette particolarmente importante lasciatele asciugare sotto qualcosa di piatto e pesante qua ho usato direttamente il manuale della prima edizione di pathfinder che sembra fatto apposta per fare questo genere di lavori usando la griglia ho notato che molto spesso l'interno delle stanze è sempre un blocco unico formato da 4 o 8 caselle ho deciso che a questo punto mi conveniva costruire direttamente delle mattonelle più grandi fatte di 4x4 invece 2x2 in modo da poterle inserire sempre contemporaneamente e in realtà questo non è tanto per aumentare la velocità di posizionamento della griglia ma per risparmiare sulle caselle più piccole che spesso mi servivano per i corridoi e non ce n'era mai abbastanza mettiamola così a questo punto invece di produrre più caselle piccole ho pensato direttamente di produrre più caselle grandi anche in questo caso procedete sempre allo stesso modo tracciate quelle che dovrebbero essere i punti di incastro prendendo come esempio le caselle più piccole e poi procedete ad applicare gli spessori negli angoli in questo caso dovete fare fondamentalmente il doppio di quello che avete fatto la volta scorsa cioè 4 quadrati lunghi un terzo della base per i lati e 4 rettangoli grossi quanto due quadrati per le sessioni centrali una volta applicati questi per i fermi al centro della base potete inserire altri 4 pezzi al centro che era quello che stavo iniziando a fare poi mi sono reso conto che in realtà gli unici due lati dritti sono quelli che devono andare sull'esterno che il pezzo sia dritto anche alla parte interna non serve a niente perché non c'è un ulteriore incastro dentro quindi per risparmiare sulla carta mettiamola così e lasciare anche la base un attimo più leggera ho tagliato a metà i quadrati che avrei utilizzato e applicato i fermi come se fossero 4 triangoli invece che 2 quadrati per evitare che la base però si imbarchi al centro e diventi una conca ho poi applicato uno spessore anche al centro in modo da tenerla rigida non è che serve a reggere il peso anche perché per quanto possa essere pesante una miniatura anche se usate miniature molto grosse in piombo comunque lo spessore del cartoncino è tale che la base regga comunque a meno che non vi mettiate proprio a prenderla ammartellate al centro non si imbarcherà per il peso ma potrebbe imbarcarsi per la vernice che s'asciuga o la colla che s'asciuga quindi mettere un pezzo di più non è indispensabile però può prevenire dei problemi in seguito e quindi è un'operazione che dura un secondo non ha senso risparmiare su questo anche in questo caso quando avete finito di fare tutta la struttura interna mettete la colla su tutte le parti rialzate e poi applicate il tetto della casella e lasciate tutto asciugare sotto qualcosa di pesante anche in questo caso il manuale della prima edizione di Pathfinder altro caso speciale di basette che vi possono tornare utili sono quelle larghe solo una casella che rappresentano passerelle, corridoi molto stretti, spazi angusti anche in questo caso con le basette 2x2 mi veniva difficile rappresentarle di conseguenza in questo caso creiamo delle basi lunghe strette proprio larghe una sola casella e lunghe 4 caselle in realtà potete farle lunghe quanto volete semplicemente quando facevo gli esperimenti ho visto che di una casella per due caselle diventavano troppo piccole e diventava difficile lavorarci in questo caso essendoci una sola casella sul lato non sarà possibile fare gli attacchi laterali ma solo sulla zona lunga non è un grave problema potete incastrarle sui lati o potete decidere di non incastrarle affatto in questo caso però gli spessori che usate sulla base dovranno essere larghi solo un terzo di casella ma più lunghi in realtà lunghi quanto tutto il lato quindi un pollice e un quarto rispetto alla griglia che stiamo utilizzando il procedimento oramai dovrebbe essere chiaro prendete un'altra casella come base vedete quali dovrebbero essere le dimensioni che avrà poi lo spessore interno riportatele qua potete scegliere se fare un singolo pezzo lungo oppure attaccare due pezzi più corti uno vicino all'altro inizialmente io ho attaccato due pezzi più corti poi mentre le facevo ho notato che era più facile fare un singolo pezzo più grosso da mettere al centro in realtà è indifferente soprattutto nel caso di pezzi piccoli come questi io vi consiglio di procedere sempre in catena di montaggio farne 4-8 per volta in modo da accelerare i tempi di lavoro diciamo che se riuscite a organizzarvi bene in un pomeriggio ne potete anche costruire una ventina non è un processo che richiede così tanto tempo per ogni singolo pezzo non l'ho detto per i pezzi precedenti ma vale per tutti una volta che li avete incollati se vedete che la parte di sopra e la parte di sotto non combaciano esattamente dovendo ritagliare tanti pezzi per volta è normale che ci siano degli errori basta qualche millimetro di differenza tra un pezzo e l'altro a rendere la cosa traballante tagliate i pezzi che sbordano semplicemente con le forbici una volta che la colla si è asciugata in questo modo le basette potranno collimare l'una con l'altra molto più facilmente una volta finito anche qui applicate il tetto e poi lasciate tutto ad asciugare bene adesso che sono finite le lasciamo asciugare per una notte e poi precediamo a decorarle esattamente come abbiamo fatto per quelle realizzate l'anno scorso ritagliatevi un altro barattolo intero di mattonelle perché ne serviranno un sacco anche in questo caso vi rimando al video precedente per vedere come fare le mattonelle un consiglio che vi do quando cominciate ad applicare le mattonelle sulle basi quelle di 4x4 è applicare per prima cosa le 4 mattonelle agli angoli in questo modo potremmo usare quelle come riferimento per fare in modo che tutte le altre mattonelle siano irregimentate in maniera corretta fondamentalmente se cominciaste ad attaccare le mattonelle dalla parte interna o vi dovete tracciare una griglia su dove le mattonelle devono essere messe sulla base che non è un lavoro lungo ma se dovete farlo per tutte le basi comincia a diventarlo in questo modo avendo le 4 mattonelle sui lati già piazzate potremmo usare quelle come griglia di riferimento per poi applicare le mattonelle all'interno le passerelle lunghe e strette dovrebbero darvi molti meno problemi semplicemente assicuratevi prima di avere abbastanza mattonelle e che queste abbiano un minimo di bordo l'una tra l'altra per staccare se avete riportato le misure in maniera precisa non dovreste avere problemi un minimo di variazione invece ci sarà quando dovete costruire le mattonelle a griglia anche questa volta vi servirà una spillatrice perché la griglia di plastica non attacca così bene sopra il cartone e dipingete il cartone prima di attaccare la griglia in modo da non dover poi ripassare tutto a pennello in seguito il processo passo a passo per crearla è spiegato in quest'altro video la differenza avverrà quando dovete applicare gli spessori di carta tra una mattonella e l'altra per rendere evidenti quali sono le caselle limitarsi a fissarle con lo scotch sul fondo potrebbe dare dei problemi perché la parte che fa aderenza è troppo piccola e non viene fermata dallo snodo centrale per rendere il tutto un attimo più solido anche se allunga un po' il procedimento ho preferito mettere proprio colla caldo direttamente sulla griglia e poi applicare la carta lì sopra fate attenzione che brucia e quindi quando pressate o aspettate qualche secondo o non fatelo a mani nude come sto facendo io infatti mi sono bruciato dall'altro lato potete sempre fissarle con lo scotch o in questo caso io avevo a portata di mano la colla quindi l'ho fissato con la colla in realtà è indifferente è solo la parte sopra che essendo più stretta e più soggetta al movimento se lasciata libera avrebbe molte più possibilità di strapparsi rispetto alle altre quindi per evitare problemi in seguito in questo caso ho preferito utilizzare la colla caldo la colla caldo non è qualcosa che tutti hanno in casa quindi per questi video se è possibile preferisco non utilizzarla però in questo caso è l'unica colla abbastanza efficace che permette di attaccare fondamentalmente tutto su tutto probabilmente vista che la superficie è così piccola anche solo l'attac sarebbe potuto bastare io francamente per abitudine sono abituato a usare la colla caldo quindi ho preferito questa nel caso se qualcuno di voi ha fatto la sperimentazione con l'attac me lo faccia sapere per vedere se è un metodo alternativo una volta finito tutto prendete una pinza o qualche altra superficie piatta con cui fare pressione e schiacciate bene i punti della spillatrice in modo che non diano troppo spessore quando dovete andare ad applicare la parte decorata poi alla base una volta fatto questo comunque anche in questo caso applicate il tetto sulla base e poi lasciate ad asciugare ovviamente quando poi andrete a utilizzarle non siete affatto costretti a tenerle tutte in riga potete creare dei percorsi a zizzag per avere delle opzioni tattiche più interessanti comunque diciamo che per questo video è tutto noi ci vediamo la settimana prossima con il secondo episodio di quest'estate del modellismo con il Master Kai come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le prossime notifiche io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao